Per Reggello, il comune di Reggello, è un approdo naturale essere qui a Olio Capitale. La regione toscana ha sempre investito tanto sull'olio, l'olio rappresenta di fatto un biglietto da visita per tanta parte della Toscana. La cottura dell'olio per il nostro territorio, noi abbiamo sul nostro comune ben 5 frantoi attivi e credo sia un dato da sottolineare e più di 20 produttori. Rappresento sia l'azienda mia personale che il frantone di Masaccio con la quale esponiamo qui a questa manifestazione. La mia è una delle aziende storiche, visto che è mio nonno che ha iniziato più di 100 anni fa a produrre d'olio e sono lieta però di vedere che negli ultimi anni è arrivata una grande presenza giovanile. Io sono invece una delle ultime nate nel comune di Reggello e nel 2016 ho deciso anche io di investire appunto nel territorio aprendo la mia azienda.